Buongiorno dal Cagnere Rifugio 281, oggi sarà una grande giornata vero Coco? Vero Ku? Sì perché arrivano un gruppo di monaci, sono quattro, arrivano da un monastero in India, due di loro sono tibetani, due indiani, sono monaci buddissi e verranno qua a benedire questo posto e questi cagnacci. E' vero, sarà un momento di condivisione, all'una e mezza vi aspettiamo, venite a trovarci.